Il problema è il pubblico, capito? E voi rompete il cazzo, scusatemi, veramente, non è possibile, perché voi volete interagire con lo spettacolo, volete applaudire, ma che cazzo vi applaudite, scusatemi? Non ve lo potreste permettere, quelli stronzi che fanno così, capito? Non ve lo potete permettere. Lasciatelo perdere, non reagite, non reagite. Maledette le case, le famiglie, le mogli, i padri, i figli, lo Stato, l'anima, facciamola finita con questa fine, perché alla fine è il principio, sono la medesima cosa e siamo sempre nell'origine, siamo sempre nel senso di colpa, siamo sempre nella parola. Bisogna fare di sé dei capolavori. Io ho trovato da molti anni, da molti millenni in me il deserto e quindi so che è un deserto che parla a un altro deserto e non più al deserto dell'altro. Invece no, invece dovete starvi zitti, anzi non venite al teatro, se non venite, anzi che cazzo siete venuti a fare qua per sentire cosa? Lei ora sta emettendo una serie di rumori, tuttavia sempre al di sotto della scorreggia di Stato, che è sempre drammatica. Io sono libero, dico quello che voglio, quando voglio e dove cazzo voglio. Io, in questo paese, di troppo invece no, molti non lo voglio dire. M'ero perso, ma lei deve parlare ancora.